Torna la paura a Santa Croce e Camerina dopo le recenti risse tra immigrati con lanci di bottiglie in pieno centro cittadini e ferimenti di persone costrette a ricorrere alle cure del pronto soccorso. La tensione in questi giorni è nuovamente salita di grado e la pausa di respiro degli ultimi tempi è durata troppo poca. In queste ore, per dare anche una scossa ad un ambiente impaurito e depresso per il succedersi di questi episodi, c'è che si è intestata una campagna di sensibilizzazione al fenomeno per analizzare a fondo appunto gli episodi e quindi organizzando anche incontri e dibattiti. Si tratta del circolo meridiana che ha raccolto anche un documento su un problema molto sentito dalla popolazione per poi presentarlo al comune con proposte in materia di sicurezza. In particolare le richieste comprendono una specifica ordinanza del sindaco affinché vieti il consumo di alcolici nelle repubbliche, il bivacca all'ingresso delle abitazioni, l'incremento dell'orario di servizio della polizia municipale e l'istituzione di un numero unico di pronto intervento comunale. Inoltre il deputato regionale Giorgio Assenza, ospita l'altra sera dello stesso circolo camarinense, ha annunciato che a giorni invierà una lettera al ministro dell'interno Alfano per denunciare la grave situazione del problema sicurezza e di ordine pubblico a Santa Croce Camarena.